ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati ad un nuovo video su world of warships so che tanto che sono mancato dal canale con dei video registrati ma adesso torniamo e parliamo di un argomento molto molto importante come probabilmente avrete già visto dal titolo ovvero il rework dell'economia di world of warships o meglio la separazione tra le mimetiche e i bonus economici ad esse attualmente collegati allora partiamo con l'analizzare com'è l'economia di world of warships adesso o meglio come è stata fino ad ora va bene prendiamo un rapporto di una battaglia per esempio questo e guardiamo un po di cose ok adesso un attimo di attenzione allora ci sono quattro risorse che possiamo guadagnare al momento in partita crediti esperienza esperienza tecnica ed esperienza comandante ok i crediti dipendono unicamente dalla vostra performance quindi da quanto danno fate da quante kill fate le onorificenze e tutto quello che fate durante la partita poi c'è l'esperienza l'esperienza dipende fortemente dall'esperienza base ovvero questo numerino qua che vedete a fine partita nella classifica ok che sarebbe 1901 in questo caso perché è 3137 perché abbiamo l'account premium di world of warships che ci consente di avere il 65 per cento in più quindi 3137 è risultato dell'esperienza base più l'account premium poi vediamo che ci sono altri fattori che possono influenzare l'esperienza che accumuliamo in partita quindi delle missioni come in questo caso 500 di esperienza dovuto alla una missione e poi gli eventuali modificatori in questo caso abbiamo il 100 per cento dovuto una camo 5 per cento perché avevano una bandiera montata 50 per cento per il bonus della vittoria della prima vittoria giornaliera e un altro 5 per cento dovuto al bonus del clan tutti questi bonus compongono questo 5020 di esperienza la sommatoria di tutti questi bonus qua contribuisce a formare questo 8.657 che è l'esperienza che abbiamo accumulato sulla nostra nave in questa partita ok poi qua c'è l'esperienza tecnica vedete che la base dell'esperienza tecnica è 433 in questo caso da dove deriva questo 433 è il 5 per cento di tutta l'esperienza che abbiamo accumulato quindi il 5 per cento di 8.657 non il 5 per cento di questo ok quindi adesso l'esperienza base e anche l'esperienza comandante vengono calcolate partendo come va prendendo come base tutta l'esperienza che viene accumulata in partita quindi non questo numero non l'esperienza base ma questo numero 4 l'esperienza dopo i modificatori che vengono applicati chiaramente 433 su cui poi si possono aggiungere ulteriori modificatori specifici per l'esperienza tecnica in questo caso come il 300 per cento le missioni e altri bonus delle vute alle bandierine al bonus e quant'altro ok ultimo discorso esperienza comandante vediamo che la base è 3137 quindi la stessa qua a cui poi si possono applicare i modificatori quindi in questo caso 100 per cento 5 per cento e 10 per cento ma vediamo che compare anche questa voce qua i bonus alla nave questi bonus qua questo 5520 non è altro che l'unione della missione qua e dei modificatori dell'esperienza quindi ancora una volta fino ad adesso anche l'esperienza comandante era fortemente influenzata dall'esperienza cioè dei bonus che darevamo all'esperienza normale della nave tutto questo andrà a cambiare e vedremo tra non molto il perché per cui questo è il primo punto che vorrei che fosse chiaro ovvero l'esperienza tecnica e l'esperienza comandante non sono più influenzate dai bonus all'esperienza che venivano applicati prima quindi così è come è stato fino finora non sarà così in futuro tenete la mente chiaramente fino ad ora i bonus che si potevano applicare per tutte e quattro le tipologie di risorse di cui abbiamo parlato derivavano essenzialmente da mimetiche e bandierine economiche oltre chiaramente le bandierine di combattimento allora le bandierine economiche i segnali economici e le mimetiche ovvero i bonus economici collegati alle mimetiche scompariranno e verranno tutti quanti riuniti in dei bonus applicati alla nave che potranno essere acquistati di volta in volta le mimetiche rimangono semplicemente per un fattore estetico quindi cambierà semplicemente l'aspetto che daranno la vostra nave in partita ok ma vedremo tutto questo più nel dettaglio sul public test tra un pochino comunque sappiate che le mimetiche ci saranno sempre quindi se avete la vostra mimetica preferita potrete continuare ad utilizzarla ma non sarà più in nessun modo legata a dei bonus economici ok altre piccole notazioni il costo di riparazione della nave viene leggermente diminuito progressivamente con i tier quindi questo dovrebbe essere un leggero miglioramento economico se non ho capito male che comunque l'idea di base è slegare le mimetiche dal bonus economico ok e poi quello che si dovrebbe venire a creare è fondamentalmente che a livelli più in alto si va più la propria prestazione in battaglia dovrebbe influenzare l'introito di risorse ovvero è già così ma più avanti in teoria si potrà si potrà vedere una disparità molto più ampia nell'introito di risorse tra chi gioca bene e chi invece ha una partita in cui ha giocato male quindi ha fatto poco ok quindi in teoria chi gioca bene avrà più o meno le risorse di prima o leggermente di più chi invece gioca male o comunque gioca mera distratta per cui ha risultati sotto la media e molti molto sotto la media potrebbe andare in negativo più di prima o comunque non andare più in pareggio quindi questo è quello che si prospetta di fronte a noi in teoria poi è tutto soggetto a insomma dobbiamo verificare e insomma verranno apportate eventualmente modifiche se necessario e uno potrebbe chiedersi sì ma io ho 10 navi tier 10 e ci ho messo su tutte quante la perma camo ho comprato la camo quella permanente per 5.000 dobloni e quindi uno dice sì è quella lì che fine fa tipo questa o addirittura quella da 8.000 le camo permanenti diventeranno di bonus economici permanenti collegate alla specifica nave chiaramente quindi da quel punto di vista dovrebbe essere preservata questa caratteristica quindi i soldi investiti cioè o meglio i dobloni investiti non andranno persi ma in teoria dovrebbe essere tutto quanto mantenuto anzi in teoria da come sembra i bonus economici che andranno a essere disponibili grazie alle mimetiche permanenti dovrebbero essere anche leggermente superiori ai bonus economici attualmente garantiti dalle mimetiche permanenti questo sempre stando a quanto dichiarato da wargaming nei development blog allora eccoci qua sul public test questa qua è sempre la montana vediamo che qua intanto vedremo che c'è una differenza se andiamo su equipment vediamo che adesso le bandierine quelle di combattimento quindi non quelle economiche chiaramente che andranno tolte compaiono in questa schermata qui ok quindi se andiamo sopra ci da sempre la descrizione di che cosa succede quando montiamo questa bandierina ma compaiono adesso all'interno di questa schermata qua degli equipaggiamenti non più su exterior qua su exterior rimangono le mimetiche ok possiamo comunque cambiare la mimetica della nostra nave se ne abbiamo svariate possiamo acquistarne ha cambiato anche il simbolo dei crediti i crediti sono disegnati così adesso e queste qua sono le mimetiche permanenti in questo caso qua ci dice che c'è uno sconto ma comunque la mimetica permanente possiamo ancora ancora acquistarla ok benissimo uno si dice ok ma dov'è che si vedono i bonus economici qua in questa parte qua è stata aggiunta questa tab sopra lo schema dell'armatura in cui vediamo i bonus economici questo qua è un riassuntino se ci clicchiamo sopra ci darà questa schermata qua qui è il bonus package è di fatto la cam permanente vedete che il costo è 4800 dobloni perché 4800 invece di 5000 perché 200 dobloni sono per la mimetica la mimetica permanente di per sé i bonus invece permanenti che vedete elencati 50 per cento dei crediti 100 per cento l'esperienza 100 per cento l'esperienza comandante 100 per cento l'esperienza tecnica costano 4800 quindi da mettere permanentemente sulla montana ok poi questo questo fa di fatto funge da mimetica permanente o meglio i bonus della mimetica permanente questi altri quattro bonus quasi se andiamo sopra questo è il bonus per i crediti vedete che ci sono quattro categorie di bonus più 20 per cento più 40 più 160 320 ok poi può essere che in futuro questi prodotti vengano un po aggiustati a seconda di insomma dell'esigenza ma comunque questi qua sono i valori dei crediti possiamo scegliere quale bonus montare chiaramente se ce l'abbiamo disponibile se non ce l'abbiamo dobbiamo andarlo ad acquistare idem per l'esperienza 100 200 800 1600 esperienza comandante quindi 100 200 800 1600 poi l'esperienza tecnica o esperienza free 300 600 2400 7200 ok benissimo ora vediamo anche che è comparsa questa nuova tab economic bonuses sotto la customizations per cui vedete che possiamo andare a comprare dei bonus per i crediti in questo caso 20 per cento 40 o esperienza comandante 100 200 esperienza tecnica 300 e 600 oppure anche l'esperienza normale della nave 100 e 200 questi sono disponibili per carbone in questo caso a un prezzo ragguardevole o 4800 oppure al doppio 9600 vedete che non compaiono in questa schermata i bonus quelli quelli più elevati ok questi perché questo perché secondo me o saranno disponibili soltanto per dobloni o comunque soltanto ottenibili grazie a missioni o come appunto ricompensa per so le battaglie classificate qualche catena di missione particolare o clan battle cose del genere questo a mio modo di vedere anzi ho appena verificato questa cosa vedete che c'è un costo in dobloni per le prime due quindi 12 dobloni il bonus del 300 per cento oppure 24 quello del 600 idem con patate questi qua 24 12 anche qua 24 e 12 anche per i crediti idem con patate 24 e 12 cosa che invece non compare per i bonus i due bonus quelli più elevati in ognuna di queste categorie al momento per lo meno non sembrano essere acquistabili in nessun modo comunque se qualcuno lo sa me lo dica nei commenti perché al momento non sembrano essere acquistabili in nessun modo questi due bonus qui immagino che saranno ottenibili come ho detto con le missioni di combattimento come buono come ricompensa particolare ma al momento non sappiamo come verranno ottenuti allora eccoci qua questa è una partita combattuto sul pub che test quindi con il nuovo sistema di economia già in vigore ok quindi vediamo che qua ci sono comunque i crediti guadagnati qua c'è l'esperienza anche qua 1500 sarebbe stata l'esperienza base aumentata di un totto arriviamo 2540 quindi più 65 per cento quindi questo qua è uguale a prima non cambia assolutamente niente qua ci sono i modificatori dell'esperienza quindi più 100 per cento quindi arriviamo a 5080 ok qua c'è l'esperienza quindi fin qua non cambia fondamentalmente niente qua invece abbiamo diamo l'esperienza tecnica vediamo che è 254 cos'è 254 è il 10 per cento stavolta non di 5080 che sarebbe stato 508 ma il 10 per cento di questo quindi 2540 togliete 10 viene fuori 254 e su questo si vanno ad applicare i bonus che in questo caso sono il 300 per cento e che poi vanno a comporre il 1016 in questo senso quello che dicevo che i bonus dell'esperienza vengono slegati dall'esperienza tecnica e dell'esperienza comandante di fatti anche qua vediamo che la base da cui si parte per il calcolo dell'esperienza comandante sempre 2540 che è questo qui più i modificatori in questo caso a 100 per cento quindi il doppio vediamo che non c'è più la voce più ship bonuses ovvero più i bonus all'esperienza che avevamo prima ok in più qua ci mette anche l'esperienza elite che è il 5 per cento se non sbaglio dell'esperienza comandante totale che abbiamo guadagnato chiaramente se il comandante che abbiamo ha già 21 punti tutta l'esperienza comandante che facciamo confluisce nel calderone dell'esperienza elite ok in questo piccola notazione a lato per cui questo è il diciamo a parte la cosa estetica il cambiamento sostanziale all'economia è questo secondo me ovvero il fatto che ancora una volta ogni parametro adesso è indipendente l'uno dall'altro per cui l'unico parametro più importante da questo punto di vista diventa l'esperienza base ovvero il risultato che facciamo a fine partita in questo caso 1539 influenza o che poi viene tradotto in 2540 se abbiamo l'account premium questo viene preso come base per l'esperienza normale ovviamente sia per l'esperienza free e anche per l'esperienza comandante quindi in questo senso fare un avere delle prestazioni migliori in partita quindi una migliore esperienza base influenziamo influenzerà molto di più i nostri introiti per i vari per le varie categorie anche prima era così ma diciamo che potevamo sopperire un pochino aumentando di molto con tanti modificatori nella nostra esperienza comunque arrivavamo ad un valore piuttosto elevato che influenzava fortemente l'esperienza free e anche l'esperienza comandante adesso non è più così in questo senso fare un'esperienza base alta ci consentirà di mantenere se non avere dei risultati di esperienza di introito leggermente superiori a prima ok se invece abbiamo risultati di esperienza base bassa quindi abbiamo delle prestazioni scadenti in partita e beh questo qua influenzerà notevolmente il nostro introito di esperienza esperienza free ed esperienza comandante perché non riusciremo più ad aumentare ulteriormente a parte ai bonus specifici che andiamo ad applicare per cui occhio a questa cosa ragazzi per cui questo è il sono alcuni dei cambiamenti più importanti che vedremo nei prossimi giorni che spero abbiate compreso nel senso che ho cercato di spiegarmi in maniera più chiara completa possibile probabilmente a volte ho fatto un po di confusione ma è una materia diciamo nuova e comunque che devo ancora interiorizzare bene bene anche io per cui ho cercato di spiegarvi il meglio possibile quello che io ho capito se ci sono delle imprecisioni delle cose che ho detto sbagliate fatemelo sapere nei commenti la domanda che tutti si fanno è ma come sarà l'economia di world of warships dopo questo aggiornamento sarà meglio sarà peggio sarà uguale a prima onestamente ovviamente la risposta io non ce l'ho devo basarmi sui numeri di e su quello che vedo scritto dalle fonti ufficiali e sembrerebbe ripeto che chi gioca bene avrà un piccolo beneficio comunque non risentirà molto di questa cosa chi gioca invece male avrà sarà incentivato diciamo giocare a tier più bassi dove il costo di mantenimento più basso perché livelli più alti chiaramente farà più fatica ok quindi da questo punto di vista sembrerebbe una cosa buona nel senso che è un sembrerebbe un modo per disincentivare gente con poca esperienza scalare direttamente verso il tier 10 o tier 11 senza avere le basi necessarie ok quindi in questo senso acquisisce molta più importanza anche il tutorial su questo canale mi raccomando ci siete giocatori nuovi dateci un'occhiata quello che io mi chiedo però è se adesso le camo che possiamo avere sono parecchie e insomma chi l'ha accumulata in passato ne ha veramente tante con diversi bonus molto molto interessanti per alcune soprattutto con quale frequenza verranno rilasciate le camo in futuro o meglio non le camo i bonus economici ok perché abbiamo visto per esempio vediamo qua sulle missioni di combattimento se c'è qualcosa no queste sono per per i container non è specificato niente qua come bonus al momento ma immagino che verranno rilasciati rilasciate delle missioni con dei bonus come ricompensa però la mia domanda è ogni quanto si potranno ottenere i bonus quelli buoni ovvero questi qua che non si possono acquistare per carbone o dobloni apparentemente almeno in che misura con quale sforzo ogni quanto ci saranno missioni per poterli ottenere se ci saranno questo tutto da vedere e anche per i bonus quelli tra virgolette scadenti quindi i primi due che costano dobloni o carbone saranno presenti nei container giornalieri nelle missioni giornaliere in che misura quanto ci si impiega a prenderli tutto questo non è ancora specificato e dovrà essere tenuto sotto controllo quindi tutto sommato questo cambiamento non sembra male ma occhio ci sono delle differenze che magari non sono così evidenti a prima vista ma dovremmo darci un'occhiata dovremmo vedere nei prossimi mesi se nel medio lungo periodo questo cambiamento servirà come dire a slegare soltanto la parte economica della parte estetica esteriore delle navi o se è un modo per in qualche modo fare cassa da parte di wargaming e quindi far sì che acquisiscano ancora più valore che sono le metiche permanenti per le navi l'account premium le risorse che poi si possono accumulare magari spendendo dei soldi sul premium shop tutto da vedere ragazzi non dico niente nel senso che non ho ancora dati in mano per poterlo dire staremo a vedere per cui ragazzi se questo video lo avete trovato di un qualche interesse o comunque se vi è stato utile per capire qualcosa in più rispetto a quello che sta per succedere l'economia di world warships mi raccomando lasciato mi piace un commento iscrivetevi al canale se non avete ancora già fatto e che dire vi ringrazio enormemente per chi insomma per chi supporta già il canale in vario modo vi rinnovo ancora l'invito a usufruire dell'opzione dimmelo con un replay mandandomi il vostro replay all'indirizzo email che trovate in descrizione del video se volete che vi dia la mia opinione riguardo a una partita in cui non avete fatto una grande performance o se avete una nave che non avete ancora ben assimilato e che dire fatele insomma andateci un'occhiata guardate se vi può interessare e in caso inviatemi fare play e possibilmente anche gli screenshot detto questo ho parlato anche troppo grazie a tutti quanti e ci vediamo alla prossima ciao a tutti